La VL è ancora viva e lo ha ricordato con un mezzogiorno di fuoco in Sardegna battendo la Dinamo Sassari 96-91. Una vittoria che rinfranca lo spirito ma non sconvolge una classifica che porta Pesaro a 16 punti al cospetto di una linea salvezza che si staglia a quota 20 dove ci sono ora sia Varese che Treviso. La prima ha battuto Napoli, la seconda ha perso a Brindisi. Va da sé che senza una vittoria a Sassari la VL si sarebbe trovata sola in fondo alla classifica. Invece in Sardegna Cincerini e compagni sfoderano una corale gara-gagliarda con la VL avanti all'intervallo 50-46, poi nel terzo quarto Sassari riemerge chiudendo sul 72-66 a proprio favore prima dell'ottimo ultimo parziale di reazione in cui Pesaro si prende la vittoria trascinata dai 18 punti di Foreman e da altri quattro giocatori in doppia cifra, dall'ottima prova di Blujet a quelle robuste di Mazzola, McDuffie e Tambone. Nel basket di Serie B esulta anche l'Ital Service Loreto Pesaro che vince a Fiumicino 67-59. Colpaccio con la C maiuscola invece per l'Ital Service Pesaro calcio a 5 che al pala Megavox si prende lo scalpo eccellente dell'Olympus Roma già certa di chiudere la regular season al primo posto. Pesaro esulta 5-3 dopo una partita cominciata a ritmi alti con l'Ital Service che bussa due volte nel primo tempo con Vaval sesto e Juan Franca al diciottesimo. Nella ripresa bastano tre minuti ai capitolini per agguantare il 2-2 ma poi Juan Fran e Moab si esaltano riportando Pesaro due lunghezze avanti. Il 4-3 di Cutrupi allunga le sofferenze che spazza via il 5-3 definitivo di Vaval che permette di vedere i play-off con Pesaro al settimo posto a braccetto con la Sandro Abate. Nel calcio l'era stellone alla Vispesero non porta la scossa sperata. Nel derby di Rimini una vilente quinta sconfitta consecutiva per l'ottava volta arrivata allo scadere. È infatti il colpo di testa di Ubaldi al 94esimo a far gioire il Rimini nel derby numero 62 e a condannare la Vis a un terzo ultimo posto sempre più complicato. Acuto finale dopo un palo a testa. Di Capanni nel primo tempo per il Rimini del capitano Vissino di Paola all'89esimo a rendere ancora più frustante la sconfitta maturata pochi minuti dopo. Vis sempre più proiettata verso play-out di scontri fratricili fra marchigiane.